Grazie a tutti. In sintesi è un'introdurre del DNA esterno dentro un batterio, dentro una cellula. Per farli produrre una proteina che non è sua. Una sorta di anticorpi. Anche si può produrre anticorpi. Non posso regare. Buongiorno, buon lavoro. Buon lavoro. Oh, perdone. Buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.